Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Come promesso riprendiamo anche in questa stagione a parlare di sandbox, anche se cominciamo con un argomento che è relativamente tangenziale al sandbox vero e più ovvio. Uno degli elementi più fortemente associati al sandbox è quello dell'uso di elementi generati proceduralmente durante la campagna o comunque durante la quest. Non è qualcosa di esclusivo del sandbox ma è qualcosa di preponderante all'interno di questo stile. Quindi prima di procedere oltre ad andare a vedere delle cose nello specifico bisogna almeno introdurre in maniera generale il concetto e andare a vedere qual è il suo uso all'interno di questo genere di sistemi. Questa settimana quindi andiamo a vedere che cosa sono gli elementi procedurali, come vengono utilizzati e soprattutto perché sono importanti per semplificarci il nostro lavoro come Master. Quello di generazione procedurale è un elemento che probabilmente chiunque abbia avuto un approccio anche minimo col gioco di ruolo in realtà ha già visto senza magari neanche rendersene conto. Però come sempre per amore di chiarezza partiamo dalle basi. In linea generale parliamo di generazione procedurale ogni volta che un elemento all'interno del gioco invece di essere inserito dal Master o dai giocatori o comunque da qualcuno che abbia autorità narrativa per inserirlo viene inserito da un sistema automatico molto probabilmente generandolo casualmente. Il caso più classico in cui probabilmente chiunque abbia giocato a un gioco di ruolo tradizionale OSR si sia imbattuto è quello del tesoro. Una volta sconfitto il mostro il Master tira sua tabella e la tabella dice che quel mostro ha due dai sei monete d'oro più un dado a due oggetti magici. Non è stato quindi il Master a decidere quante monete, quanti oggetti e anche quali oggetti avesse il mostro il tutto è stato deciso da un lancio casuale di dadi. Quello del generale risultati casuali tirando su una tabella è probabilmente il metodo più diffuso e ubiquo dell'intero gioco di ruolo in generale ma in realtà vista l'ampiezza di quello che è il mondo del gioco di ruolo sistemi per generare proceduralmente sono virtualmente infiniti. Per fare un esempio più concreto Rogue Trader della Fantasy Flight usa un metodo procedurale per stabilire il retroscena e le relazioni tra i vari personaggi giocanti. Durante la fase di creazione dei personaggi i giocatori devono rispondere a turno ad alcune domande sul passato del loro personaggio e in base alla relazione che si viene a creare tra la loro risposta e lo specifico risultato della tabella si andrà a definire sia alcune abilità speciali del personaggio il cui giocatore sta rispondendo sia come quando è entrato in contatto con uno o più altri membri del gruppo. In questo caso non c'è stato alcun elemento randomico, i giocatori hanno inserito del loro rispondendo alle domande ma comunque non hanno preso delle vere e proprie decisioni perché le decisioni sono state prese dal sistema procedurale. Come vedete le possibilità sono veramente infinite. Quando però a questo punto è il caso di utilizzare un sistema procedurale quando no. In linea generale se utilizzare o meno elementi procedurali dipende interamente dal gusto personale del master e del tavolo e ovviamente il loro impatto dipenderà in larga parte da quanti e quali di questi elementi sono stati effettivamente utilizzati. L'uso di elementi generati proceduralmente lo si può trovare comunque a qualunque livello di gioco dai sistemi maggiori ai sistemi minimi. Il caso più comune in cui però viene utilizzato è quando deve essere generata una grande quantità di elementi che però sono per loro natura relativamente poco importanti per la linea generale della quest. Ad esempio decidere nomi o caratteristiche fisiche di una serie di png secondari. I giocatori si trovano a viaggiare su un treno e durante questo viaggio dovranno risolvere una quest. i png attivi o comunque importanti per la quest magari saranno creati manualmente dal master ma per tutti gli altri viaggiatori del treno si possono semplicemente generare randomicamente tanto il loro impatto sarà relativamente poco importante sulla quest. Andando sulla macro scala l'intero mondo di gioco potrebbe essere generato randomicamente dal tipo di terreno che i giocatori incontreranno fino a elementi anche importanti come esattamente cosa si trova su quel tipo di terreno città villaggi interi stati nazione esistono siti internet in cui schiacciando un tasto si può generare in maniera randomica l'intera mappa del proprio mondo di gioco potenzialmente anche la quest stessa potrebbe essere generata proceduralmente molti manuali includono tabelle di spunti per possibili avventure ma se volete scendere più a fondo esistono interi libri dedicati alla generazione procedurale di intere storie se non intere campagne probabilmente non otterrete le storie più coerenti possibili con un metodo del genere questo va detto ma sicuramente otterrete qualcosa di interessante una domanda ovvia a questo punto potrebbe essere quella del perché non lasciare che gli elementi vengano sempre inseriti attivamente da qualcuno che ha autorità narrativa al tavolo invece che lasciare che sia un sistema automatico a farlo in realtà la risposta è molto semplice e che inserire costantemente elementi senza avere dei paletti senza avere delle limitazioni a riguardo è molto più difficile di quello che sembra se io adesso vi chiedessi di inventare al volo una città in cui i vostri giocatori dovranno arrivare la prossima settimana e dirmi cosa c'è all'interno di quella città le risposte che otterrei probabilmente ricadrebbero in due categorie le cose ovvie e le cose che piacciono a voi alcuni di voi infatti avranno pensato a ciò che è indispensabile per il funzionamento di una città o ciò che è classico del vostro gioco di ruolo preferito quindi avremmo avuto risposte come il municipio il mercato magari il classico cliché della locanda sicuramente sono cose che dovrebbero essere introdotte in una città perché hanno una funzione del gioco ma nessuno ricorderà mai come memorabile la quest in cui una volta arrivati in città il party è andato in locanda gli altri invece magari hanno dato risposte più fantasiose ma queste risposte sono viziate in realtà dal proprio interesse personale a quelli a cui piacciono i racconti di cappa e spada avranno detto la gilda dei ladri a quelli che piace la fantascienza hanno detto l'astroporto con le navette per andare in orbita il cimitero con i non morti per gli amanti all'horror e via discorrendo queste sono sicuramente cose più interessanti ma dipendendo fondamentalmente dalle preferenze personali di chi poi va a inserirle si portano dietro due difetti il primo è che per quanto vasti possano essere i vostri gusti personali probabilmente avete idee per caratterizzare cinque o sei città non la mappa di un intero continente con 60 70 città che devono essere tutte diverse dall'altre e dall'altra dipendendo appunto dal gusto personale non necessariamente andranno a coincidere con il gusto personale degli altri membri al tavolo indipendentemente da tutto questo però in entrambi i casi sia degli elementi che dipendono dal gusto personale sia gli elementi hobby il tutto sarà inficiato dalla in realtà perfettamente normale tendenza umana a razionalizzare le cose quando noi pensiamo a qualcosa la pensiamo nel modo che ha più senso o almeno che ha più senso per noi se io dico che in città c'è il collegio di magia la cosa a cui penserete sarà ai maghi mescolano le pozioni fanno esperimenti sviluppano nuovi incantesimi difficilmente avete pensato si occuperanno della coltivazione froleale però adesso che ho detto si occuperanno nella coltivazione froleale probabilmente state cominciando a pensare che ci potrebbero essere enormi sviluppi in questo campo e vi stanno già venendo delle idee generare ciò che è presente in città da una serie di tabelle casuali aiuta per esempio in questi casi dato che gli elementi generati saranno randomici dovrà essere poi il master a giustificarli e il processo di giustificazione magari di elementi disparati darà origine a cose molto interessanti e questo non solo rende il world building un'attività già di per sé più gratificante ma aiuta a dare anche un flavor particolare al singolo posto singolo mondo quello è stato creando oltre a evitare di essere influenzati dai propri bias e aiutare l'immaginazione la generazione procedurale anche poi uno scopo molto importante cioè quello di evitare di perdere tempo in elucubrazioni su elementi che fondamentalmente ci permetterebbero di girare a vuoto a pensarci all'infinito potrebbe per esempio essere interessante per alcuni dungeon specifici andare a decidere uno per uno quali sono tutti gli oggetti che fanno parte del tesoro di quel dungeon alla lunga però questa diventerebbe un'attività noiosa incredibilmente ripetitiva è meglio generare tutto il tesoro casualmente e poi piuttosto tra gli oggetti generati casualmente andare a scegliere quell'uno o due che si vuole caratterizzare un attimo di più per motivi di trama ricorre alla generazione casuale aiuta anche a risolvere quella che viene chiamata l'analisis paralisis cioè la situazione in cui le possibili scelte sono così tante che anche solo effettuarne una è un ragionamento talmente complesso che alla fine si rimane bloccati e si è incapaci di prendere una decisione se vi dovessi dire e disegnare la mappa è il vostro mondo è possibile che voi ci passiate settimane se non mesi a valutare ogni possibile conformazione geografica e potrebbe dar luogo a qualcosa di interessante ma se io dicessi semplicemente di prendere un foglio tirarci sopra dei dadi e tracciare la forma dei continenti in base a dove i dadi sono fermati non solo il processo richiederebbe solo pochi minuti invece di stare a perderci mesi ma è probabile che la mappa abbia una forma molto più complessa e comunque interessante di quella a cui sareste arrivati radunjonandoci oltretutto la generazione procedurale normalmente inserisce forti elementi randomici nell'aspetto per cui sta venendo utilizzata e questo a seconda del tipo di gioco potrebbe rendere il tutto veramente più interessante sia per il master che per i giocatori se la vostra quest prevede che i giocatori siano degli esploratori spaziali che devono esplorare sistemi planetari lontani abbiamo citato rogue trader all'inizio del video generare casualmente quei sistemi planetari in modo che i giocatori non possano sapere a priori se quello che troveranno sarà utile o meno per loro non solo rende il tutto più verosimile ma aumenta la suspense per i giocatori e oltretutto le eventuali botte di sfiga o enormi colpi di fortuna che sicuramente capiteranno usando un sistema casuale andranno a generare momenti che saranno come dicevo più memorabili e quindi più facilmente ricordati dai personaggi anche dopo la quest sarà finita fate però molta attenzione che utilizzare generatori di elementi procedurali utilizzare tabelle quello che volete è una cosa molto comoda per il master ma non vuol dire diventarne schiavi questo però è un argomento molto complesso quindi lo tratteremo poi in un prossimo video e mi dovrò probabilmente anche avvalere delle competenze specifiche di un esperto del campo per questo video invece la chiudiamo qui adesso la parola sta a voi ditemi se voi utilizzate elementi procedurali nella vostra creazione dei mondi se non li utilizzate se non li utilizzate perché non li utilizzate come sempre se avete domande dubbio perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo è venuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al gruppo telegram e al server di discord dove c'è anche il resto della comunità del master k e dove metto io le notifiche manualmente io sono il master k e noi ci vediamo nel prossimo video